La votazione è una votazione finale in un'articola unica del disegno di legge di conversione. La relatrice, sanatrice dei casi, chiede l'autorizzazione a volgere la relazione parale o a facoltà. 16-11, ripetiamo da un prezzo. La relatrice, sanatrice dei casi, chiede l'autorizzazione a volgere la relazione parale o a facoltà.